ebbene si signori come vi abbiamo promesso noi siamo sulla nave buonasera sali e signori siamo in quello della nave ma ancora questo quello della nave? questo vuol dire quello, quello, quello non puoi parlare in italiano siamo su una nave siamo su una fottissima nave bianca con i personaggi di unitunus bellissima che c'è, c'è il dato sul bacio attenzione che siamo già imbarcando acqua c'è una cosa importantissima aspetta ma gli devo far vedere che stiamo imbarcando acqua no 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 è acqua vedi quanta acqua c'è bene ma che c'è 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 e c'è qua quel cane questo è un topo aspetta che zoom è un cane bellissimo aspetta che zoom, ah si è un cane ora lo vedo basta adesso partiremo tra un po' e andremo là là vediamo verso l'infinito e oltre di là ok si ma togli il topo e basta di là lo zoom è più di così non va avanti quindi arrangiatevi e cercate di immaginare l'isola che non c'è l'attraversato durerà tutta la notte perchè di notte le navi viaggio a nuovo piano perchè non ha niente di nebbia grazie basta adesso io dovrò passare la notte qui con il mio cane perchè non lo lascio da solo poverino ha paura di se stesso ci sono i sdraio a poppa mentre io sarò nel pub mangerò e mi rimpizzerò e berrò si lasciale giù 200 euro per fare questo no lascerò te qua a soffrire col cane oh mio padre mio nonno quel giorno basta che si è punatissimo sull'acqua attenzione signori ti maniato ah se ti scemo faccio il culo molto ovviamente si no 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 più che altro molto ovviamente si sta adeguando si sta adattando si adesso per il piano c'è tanto ecco vediamo che si buona ok dopo tutto ciò basta e basta bene basta fine fine vi lasciamo adesso il video per il fatto che devo dare l'anticipazione anticipazione preview preview il prossimo video sarà eseguito da me il medesimo ancora ah eseguito nel senso farai tu il video si sarà eseguito ah perfetto ok no perchè sei sempre tu il protagonista a me mi rompe le palle questa cosa fatti un account youtube e fai tu anche io ho un account youtube da molto prima di te forse lo farò io ho lasciato già anche il commento avrò io il telefono in mano perfetto e visualizzerò le coste della sardegna all'alba se si vedranno già oh mio dio ok si sarà un video molto bello si 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 saranno molto emozionati perchè ora vedrete il tramonto e siamo a vedere l'alba no forse così si vede meglio dal tramonto all'alba ok questo è il tramonto e e ricordiamo che prima c'era l'alba si molto prima ma adesso si parte fra mezz'ora sai si parte fra mezz'ora sono già le 9 sono le 9 meno 5 che miseria l'ultima volta che mi hai detto erano le 7 vabbè ok lì c'è il semaforo che è verde possiamo partire è un buon fatto